Potrebbe tranquillamente essere il cavallo che tutti vorrebbero avere. Docile e tranquillo di carattere, duttile, affronta senza nessuna difficoltà dai 1500 ai 2100 metri e non importa se il terreno è buono e pesante, a lui basta che si aprano le gabbie per fare, e anche bene, quello per cui è nato, correre e a quanto pare anche vincere. Mille pregi per Golden General, masco e inglese di 5 anni alla corte di Angelo Russo, che cospiccato intuito l'ocquista circa un anno e mezzo fa, e mai fu scelta più azzeccata. L'unica pecca? Vive con molta enfasi il pre e il post corsa. Lui è un cavallo abbastanza tranquillo, però c'è solo un difetto che dopo qualche lavoro troppo intenso, oppure dopo le corse, lui diventa abbastanza nervoso e ho bisogno di qualche giorno in più per tranquillizzarlo. Vince e convince Golden General, che debuttando a Roma nel settembre del 2010 e su sei prove, vedendo solo una volta il podio alle capannelle, viene portato a Siracusa da Ciro Testa e Massimo Sardelli nel gennaio del 2011. E poco dopo, proprio a marzo, arriva il primo successo siracusano, e dopo circa un anno il primo con i colori di Angelo Russo. E prosegue il suo percorso con soddisfacenti tappi in quel degnano, ma torna al Mediterraneo, cresce e in fretta, e il team lo chiama il confronto in contesti sempre più impregnativi, fino a portarlo ai 2100 metri del premio Francicanava. Dove Golden General risponde presente, prendendo di forza la piazza d'onore. È stato sempre un buon cavallo, comunque da quanto l'ho avuto qua io ha migliorato tantissimo. È stato un cavallo che ha corso dai 1500 ai 1700, ha corso sempre bene. Poi lo abbiamo inventato a 2100, che ha corso correndo subito e ha vinto una trisse con 63,5 kg. E comunque poi abbiamo deciso di fare il Francicanava, ha fatto un buon secondo posto. Ci credevate su questa buona prestazione? Sì, sì, ci credevamo tantissimo perché anche portava 52 kg. Non ci credevamo tanto per il terreno, perché lui fa dei terreni pesanti, e comunque si è adattato anche sul terreno duro e mi è andata bene, un buon secondo posto. Da quell'esaltante prestazione non deluse quasi mai Golden General, che la maggior parte delle volte in cui viene chiamato al confronto sulla pista siracusana risulta tra i protagonisti. E fa paura sempre di più agli avversari il suo rendimento costante, frutto anche di ore di profiguo allenamento. Siccome lui è un cavallo abbastanza possente, ha bisogno di un allenamento costante, perché è un cavallo abbastanza robusto, abbastanza grosso, e ha bisogno di allenarsi tanto. Quanto si allena un giorno, mediamente? Un'oretta al giorno. È un cavallo che corre spesso oppure che fa delle corse mirate? No, lui è un cavallo che sta facendo qualche cosa mirata ora, perché comunque il cavallo è migliorato tantissimo, ora fa le condizionate, quindi ce ne sono pochi. Ma fino a qualche mese fa ha corso anche due o tre settimane di fila, vincendo anche la terza settimana. E anche quando, probabilmente non credendo fino in fondo alle ottime qualità dimostrate dall'allievo di Salvatore Lanteri, e dunque lo si ritiene un gradino più basso e cavalli più di spicco al Mediterraneo, ecco che Golden General sfodera la parte migliore di sé. E mette a tacere costoro. Questo è quanto accaduto nell'ultima condizionata, in cui il figlio di Stops era stato dato per spacciato. Il risultato? Una forma eccellente che lo vede portarsi a casa in volata il premio Lorac Knight. Noi ci cadevamo tantissimo, perché il cavallo comunque era al 100%, e poi anche per i chili che portava i 52 kg. Avevamo paura solo di Mr. Gotham, che comunque portava quei 59 kg, quei 7 kg, pensavamo di poterli sfruttare per poterlo battere. Comunque ci siamo riusciti alla grande. Fatto sta che nell'ultimo anno, su 17 corse effettuate, Golden General colleziona 4 vittorie e 9 piazzamenti. E se la matematica non è un'opinione, folle chi non lo ritiene un soggetto all'altezza di.